Prosegue la querella illegale sulla delicata vicenda di Piazza Dante del sottostante parcheggio a Teramo. Nella giornata di domani è fissata l'udienza in corte d'appello per la revisione della sentenza di primo grado, che aveva escluso il risarcimento di circa 6 milioni di euro chiesto al comune dalla Socabi, società che si occupa della sosta pagamento dell'impianto sotterraneo e nell'area in superficie. Si tratta del giudizio in sede civile che viaggia parallelo a quello affidato agli organi della giustizia amministrativa, intentato dalla ditta contro i provvedimenti dell'ente, tesi a sottrarle il controllo di Piazza Dante. Insomma al momento abbiamo vinto entrambe le cause, sia quella amministrativa che quella civile. Una battaglia politico-amministrativa che io ho portato avanti già da consigliere comunale. Una volta diventato sindaco ho preso in mano la situazione e ho fatto quello che un'amministrazione pubblica deve fare, governare il processo di gestione di Piazza Dante, procedere a chiudere la vicenda della gestione del parcheggio a raso, che il TAR ha riconosciuto corretta come azione amministrativa, e poi portare avanti il giudizio civile che ci ha dato ragione in primo grado. Quindi al momento è una situazione che è ancora in fase giudiziaria, ci sarà anche un'interlocuzione con i soggetti gestori, come è giusto che sia, ma la linea tracciata è una linea molto chiara. Nel corso degli anni chi ci ha preceduto ha di fatto smesso di controllare il parcheggio di Piazza Dante, affidato la gestione in proroga, una proroga senza scadenza. Noi abbiamo bloccato questo iter, poi c'è stato ovviamente il periodo del Covid che ha determinato una prosecuzione, e ora riprendiamo in mano la piazza. Portiamo intanto avanti due giudizi, sia quello civile che quello amministrativo, ma cominciamo già a programmare il futuro di Piazza Dante. L'obiettivo annunciato dal Comune è quello di riportare l'area a zona pedonale, cancellando in parte le strisce blu che garantiscono in troita il gestore. Questo sulla base di un accordo risalente all'epoca dell'amministrazione di centrodestra, teso a compensare i maggiori costi sostenuti dalla società nella fase di allestimento e avvio del parcheggio interrato, compensazione che per il sindaco D'Alberto è già venuta. La mia idea è molto chiara attraverso un confronto con la città, con la comunità e il Consiglio Comunale, ovviamente arrivare a ridefinire quella pianificazione urbanistica della piazza che è molto datata nel 1999, quindi appartiene ad un'altra epoca, ad un altro tempo, e quindi all'esito di questi giudizi svilupperemo il processo di riqualificazione della piazza.